Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video riguardante alcuni nuovi arrivi di questa sessione di mercato faremo una breve analisi anche dal punto di vista fantacalcistico prima di iniziare l'analisi di questi giocatori vi invito a scriverci qua sotto nei commenti riguardo i vostri dubbi sulla rosa vedere un po' chi vorreste scambiare, se avete qualche dubbio potete scriverci qua sotto noi vi aiuteremo magari a scegliere insieme quali giocatori potete cedere al mercato e vogliamo magari avere anche la vostra valutazione riguardo i giocatori che menzioneremo durante questo video primo nome riguardante la sessione di calciomercato è Sturaro che è passato dal Genoa al Verona Juric l'ha voluto come alternativa al suo centrocampo, infatti nel centrocampo A2 del Verona giocano Tamez e Veloso ma c'è anche Ilic e a questo punto c'è anche Sturaro pronto per guadagnarsi una maglia da titolare non è sicuramente un giocatore che può portare bonus, anzi porta anche diversi malus, altro nota negativa è il fatto che è propenso agli infortuni se lo avete già in rosa potete valutare di tenerlo se chiaramente siete ben coperti al centrocampo se invece è libero nella vostra lista svincolati chiaramente valutate quali possono essere i giocatori liberi in ogni caso può essere solo una scommessa da ultimo slot del vostro centrocampo un altro giocatore che ha cambiato maglia nel nostro campionato è Conti che è passato dal Milan al Parma da Versa l'ha voluto perché a destra il Parma è abbastanza scoperto, non hanno convinto né Busi né tantomeno Jacoponi che è comunque un difensore centrale adattato, è vero che Conti nell'esperienza rosso-nera ha collezionato 40 presenze con 0 reti e 5 assist quindi non è sicuramente il Conti che abbiamo conosciuto ai tempi dell'Atalanta però da Versa ci crede, ci possiamo credere anche noi, può essere preso come quinto o sesso slot della vostra difesa chiaramente speriamo che regga fisicamente è ritornato nel nostro campionato una vecchia conoscenza come Mario Mandzukic l'abbiamo conosciuto ai tempi della Juventus, un giocatore forte fisicamente che Pioli l'ha voluto come alternativa a Ibrahimovic sappiamo benissimo i problemi fisici che può avere Ibrahimovic è un giocatore chiaramente che non sto qui nemmeno a spiegarvi nel dettaglio Ibrahimovic 7 presenze con una media di 2 gol a partita però ha saltato tante partite Mandzukic può essere la sua alternativa, potete prenderla se avete già Ibrahimovic in rosa se invece non avete nessun attaccante rosso-nero può essere preso giusto come quinto o sesso slot occhio a non strappagarlo perché comunque è un giocatore che è fermo da diversi mesi ha la sua età, insomma va per i 34 anni è un giocatore che comunque può portare dei bonus chiaramente può essere schierato quando può partire titolare o se vi fidate di lui potete comunque schierarlo a titolare con adeguata copertura di sicuro non può essere un titolarissimo del vostro tridente d'attacco un altro giocatore che ha cambiato casacca in questa stagione è Alfred Duncan è passato dalla Fiorentina al Cagliari nella Fiorentina era un po' fuori dal progetto anche un po' stranamente visti i problemi a centrocampo della Fiorentina ma di Francesco che l'ha già avuto due anni a Sassuolo tra il 2015 e il 2017 e visto anche l'infortunio di Rogue lo ha voluto nel suo Cagliari sarà sicuramente un titolare, ha già debutato con la nuova maglia è un giocatore che comunque non porta bonus è un giocatore che può prendere sicuramente delle sufficienze ma non è un giocatore appetibile fantacalcisticamente magari è un po' più appiattibile per chi gioca al mantra in quanto ha il doppio ruolo M e C è ritornato un altro giocatore nel nostro campionato ha giocato in questa prima parte di stagione in Serie B con il Brescia Torregrossa ha debutato lo scorso anno in Serie A portando 7 gol e 3 assist, non ha fatto malissimo Ragneri l'ha voluto come alternativa a Quagliarella e anche a Keita la Sanduria sta giocando con un'unica punta però con Torregrossa può anche giocare a due punte chiaramente non è un titolarissimo è un giocatore da prendere come quinto sesso slot però può essere una bella scommessa occhio a non strappagarlo è ritornato nel nostro campionato Kevin Strotman, il Genoa l'ha preso dal Marsiglia sappiamo Strotman ai tempi della Roma prima dell'infortunio che tipo di giocatore era era un giocatore che comunque portava qualche bonus più assist che gol sicuramente poi è stato bloccato per il problema al ginocchio al legamento crociato del ginocchio sinistro è stato operato due volte non è mai ritornato lo Strotman che abbiamo conosciuto ai tempi della Roma l'esperienza al Marsiglia non è stata soddisfacente Ballardini l'ha voluto nel suo Genoa sarà sicuramente un titolare ed è un giocatore che può essere preso come sesto o settimo slot del vostro centrocampo il Milan ha preso dal Torino Meite nel Torino non era titolarissimo aveva collezionato appena sette presenze quest'anno l'ha preso come alternativa che sì quindi sicuramente Meite non sarà un titolare se lo avete in rosa a questo punto tenetevelo perché comunque il Milan può far meglio rispetto al Torino può entrare a gara in corso può essere anche chiaramente può anche giocare al fianco di Chessy anche se da quella parte c'è più il duo Ben Assertonali quindi ripeto può essere un'alternativa chiaramente al titolare di Chessy quindi un'alternativa ai vostri titolari può essere preso come settimo ottavo slot del vostro centrocampo il Bologna ha preso un ex Genoa Sumarò che era arrivato nella scorsa stagione nella seconda parte aveva giocato otto presenze con una rete dal punto di vista fantacalcistico non mi convince tantissimo andrà a fare l'alternativa al duo titolare Danilo Tomiyasu può giocare titolare qualora poi Tomiyasu venisse spostato sulla fascia destra anche in questo caso lo reputo un giocatore da settimo ottavo slot della vostra difesa il Cagliari oltre ad aver preso Duncan ha preso anche Nainggolan sappiamo benissimo la potenzialità di questo giocatore il Cagliari l'ha avuto anche la scorsa stagione realizzando sei gol e cinque assist in questa prima parte di stagione Conte non l'ha minimamente calcolato ha collezionato appena quattro presenze da subentrante ha una grossa voglia di rivalza chiaramente se lo avete in rosa finalmente potete schierarlo se è libero nella vostra Lega potete puntarci come quinto slot del vostro centrocampo lo Spezia ha preso in prestito prestito secco dalla Fiorentina Saponara Saponara che era praticamente fuorirosa nella squadra viola Saponara ha già deputato nello Spezia ha segnato due gol nella sfida vincente in Coppa Italia contro la Roma quello che non mi convince tanto il Saponara innanzitutto è la sua integrità fisica sappiamo benissimo che è un giocatore potenzialmente importante al fantacalcio ma è più volte le volte in cui è infortunato rispetto alle volte in cui gioca da titolare e non mi convince nemmeno tanto il modulo di Italiano perché Italiano gioca con il 4-3-3 lui che è un trequartista puro l'abbiamo visto con la Roma agire da esterno per poi esterno d'attacco per poi accentrarsi volendo può anche essere utilizzato nei tre di centrocampo nel caso vogliate prendere Saponara dovete prenderlo chiaramente se siete ben coperti a centrocampo come ultimo slot del vostro centrocampo ovviamente ultimo nome di questa di questa breve lista è Jaquim Mele preso dal Cenk all'Atalanta è un esterno interessante sarà l'alternativa a Tebur nel Cenk ha realizzato in 130 presenze 6 reti e ben 22 assist quindi è un giocatore che comunque si propone in avanti l'abbiamo già visto in questo inizio inizio anno quando è entrato nell'Atalanta è un giocatore che comunque si propone sappiamo benissimo l'importanza degli esterni per Gasperini è comunque un'alternativa chiaramente da prendere se avete a Tebur se invece non avete gli esterni dell'Atalanta può essere presa come sesto settimo slot della vostra difesa da mettere quando magari ha la possibilità di giocare titolare ecco ragazzi quindi una breve analisi di questi nove giocatori che sono arrivati o che comunque hanno cambiato maglia nel nostro campionato non ci sono fino adesso dei giocatori interessantissimi almeno da quello che sappiamo a livello ufficiale chiaramente speriamo che in questi ultimi 10-12 giorni di mercato arrivino dei giocatori più utili in ottica a fantacalcio perché chiaramente sappiamo benissimo che inizio febbraio avremo il mercato di riparazione e un po' tutti quanti vogliamo un po' aggiustare la nostra rosa vi invito ancora una volta a scriverci qua sotto nei commenti riguardo i vostri dubbi sulla rosa vedere un po' quali giocatori magari volete cedere chiaramente noi vi possiamo dare un consiglio vi chiedo di scriverci più informazioni possibili affinché il consiglio sia chiaramente il più personale il più personalizzabile possibile per il resto un grosso saluto da parte mia Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it è tutto vi do appuntamento alle nostre prossime live riguardo i turni di campionato e i nostri video riguardanti la presentazione dei nuovi arrivi nel nostro campionato ciao ragazzi e buon fantacalcio a tutti